Il portale nuovo è successo, di poter interloquire con tante ragazze e ragazze, con tanti giovani. È evidente che bisognerà parlare a questi ragazzi delle cose che gli interessano di più e credo che in primo luogo il lavoro sia il tema più preoccupante in questo momento. La crisi economica da una parte, la riforma delle pensioni dall'altra, anche giusta e comprensibile per molti aspetti, fa sì che sommati questi due fatti rischiano di creare una barriera all'accesso al lavoro da parte dei giovani molto forte. Noi stiamo ragionando su come orientare i prossimi finanziamenti europei, quelli del prossimo settennato, dal 14 al 20, e anche una parte di quelli che ancora stiamo utilizzando nel senato in corso, quello che finisce il 2013, per politiche molto mirate a quelle fasce che hanno una difficoltà particolare e a incrociare il mondo del lavoro. Quindi quelli che ne escono già maturi, le fasce disagiate, ma anche quelle ragazze e quei ragazzi che appunto oggi faticano moltissimo per questo tappo che si è creato. Sarà molto interessato attraverso il portale capire bene cosa pensano loro di questo, di scuola, di formazione, di eventi, di cultura, di attività sportiva, insomma, tempo libero, e darà questo portale indicazioni molto importanti anche a noi per le società che dobbiamo compiere.